Il Ferragosto è una festa tipica italiana che si festeggia il 15 agosto. È un giorno di riposo retribuito. È una festa di origine dell'impero romano. È stato istituito dall'imperatore Augusto nel 18 a.C. Si festeggiava la fine dei lavori agricoli stagionali. Con questo giorno festivo i lavoratori romani iniziavano il riposo dopo il lavoro faticoso. Il nome Ferragosto ha origine nell'espressione latina Ferie Augusti, che significa riposo di Augusto. Col tempo, quell'espressione è diventata Ferragosto. Non solo il nome è cambiato, ma anche il motivo per cui si festeggia. Nel Medioevo la festa di Ferragosto è stata collegata con i festeggiamenti dell'assunzione della Madonna in cielo. Così una festa romana è diventata una festa cattolica che ha sopravvissuto fino ad oggi. Di questi tempi, le vacanze di tanti italiani iniziano con la festa di Ferragosto. Tra le regioni italiane esistono tanti modi diversi di celebrare il 15 agosto, per esempio un paglio, un falò o una fiera. Di solito si va alla spiaggia con famiglia e amici, iniziando così la stagione estiva.